Quali sono le problematiche che affliggono una parte del centro storico di Andria, quella di Largo Grotte? È un punto che è stato restituito ai cittadini da quando è stato riattato con finanze pubbliche e questo è un dato positivo. È un punto nevralgico per quanto riguarda la storia di Andria ed è purtroppo una parte della nostra città che è frutto di continua trascuratezza da parte dell'amministrazione comunale. Questo è quanto lamentano i residenti stessi di quella zona i quali dopo aver sorriso per aver visto finalmente riattata quell'area poi si sono dovuti cimentare con continui problemi legati alla sicurezza, allo spaccio di droga, al traffico incontrollato di mezzi di velocipedi, di ciclomotori in tutte le ore ad atteggiamenti assolutamente non consoni al buonsenso e alla civiltà per quanto riguarda anche lo scorazzamento dei cani non solo i randaggi ma anche quelli che vengono portati a spasso dai loro padroncini che però non hanno alcun rispetto di un'area pubblica. Lamentano i cittadini anche il fatto che l'opera pubblica realizzata è stata fatta con materiale e con tipo di lavorazione veramente di basso costo tanto che già dopo pochi mesi dall'inaugurazione di Largo Grotte si è constatata la rottura di molte delle basole apposte o comunque di parte della pavimentazione così come l'area delle giostrine dedicata ai bambini è spesso oggetto purtroppo di manomissioni e comunque il tappetino anche posto a riparo per i bambini stessi non è idoneo né ad attutire le cadute dei bambini né tantomeno a rimanere fisso sul piano d'appoggio perché viene continuamente divelto sia da animali che da passanti. I cittadini ce la stanno mettendo tutta per rendere maggiormente decorosa quell'area tanto che si preoccupano di abbellire le loro abitazioni, i portoncini però lamentano il fatto che comunque l'amministrazione non abbia un'attenzione neanche dal punto di vista della rivalutazione turistica di quell'area. Come progetto Andrea abbiamo anche fatto una proposta proprio perché il nostro obiettivo è quello di collaborare con l'amministrazione ad individuare tutte quelle soluzioni idonee a rendere un servizio migliore alla città. Una di queste proposte è legata non solo ad attività di rivalutazione culturale e turistica di quell'area ma anche e soprattutto a pensare di darla diciamo in gestione per esempio ai disoccupati visto che abbiamo il disagio della disoccupazione che è veramente elevatissimo in città cioè si dovrebbero pensare a dei cantieri lavoro, dei cantieri di cittadinanza mettendo quell'area così come altre aree pubbliche sotto la protezione, sotto la custodia, sotto l'intervento diretto dei disoccupati ovviamente facendo tutte le procedure del caso per dare la possibilità a costoro di impegnarsi e portare a casa qualcosa da dare ai propri figli.